Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video un po' diverso dal solito, siete abituati a vedere sul mio canale video di sniping, adesso ho cambiato un pochettino gioco nel senso che ho voglia di provare anche le altre classi e non perdermi nulla di Battlefield 4. In questo video avete un montage di kill fatte con RPG, mine slam, lancia razza e guida termica, lancia razza e guida laser, C4, insomma qualsiasi cosa che esploda contro dei mezzi. Quindi se vi piace vedere mezzi che vanno a fuoco che esplodono questo è il video giusto. La maggior parte saranno su Naval Strike però ce n'è qualche una anche sulle altre mappe perché mi sto concentrando in questi giorni parecchio su Naval Strike. E no ragazzi guardatevi il video se vi è piaciuto lasciate un like, un commento io vi rispondo e se potete condividete. Ciao belli! Ciao! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.